Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Arrivare digitale Questo è Digitalia Settimana del 5 giugno 2023 Quando sembra tutto pronto Che ti accorgi che ti sei dimenticato un pezzo Tipo l'introduzione Facciamo come alla vecchia Bandiera gialla La bandiera sbagliata del Vaticano I bandi TikTok in giro per il mondo Ma soprattutto le novità da WWDC Come Vision Come si chiama ProVision Vision OS Apple Vision Questa è un'altra te scaletta Per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale All'italiana Dallo studio di Gurea 1 di Sanremo Qui è Franco Solerio Dallo studio cittadino di Avellino Massimo De Santo E dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi Buongiorno amici Buongiorno digitaliani Bentornati da queste parti E buonasera Sia ai miei colleghi Che registrano con me di sera Come tutti noi di sera Buonasera carissimi Vision Pro Vision Pro Non ProVision Come altro l'hai chiamato Vision Pro Vision Pro No ma lui l'ha detto corretto In 906 o 71 era azzeccato Datemi qualche mese Per imparare almeno il nome Intanto ti anticipo Che parleremo anche di Sodoma Dopo Che secondo me è un nome Molto più bello Di quello ufficiale Ma questo è un teaser Va bene Partiamo dalla One More Thing Allora Abbiamo ritardato un pochino Abbiamo ritardato un pochino L'inizio della trasmissione Proprio per quello Per seguire WDC Per seguire Giusto Perché ultimamente Ci eravamo un po' raffreddati Sulle presentazioni Apple Ma oggi sembrava esserci Qualche cosa Di veramente New Veramente One More Thing E allora Due momenti È stato preceduto Da una La prima ora e mezza Una televendita Di quelle proprie Esatto C'è stato bellissimo Quando ci arriva Il messaggino di Max E mi fa Ma questa è una televendita Si ha ragione Mancavano Il nuovo iOS Con il set di pentole I materassi Più o meno Eravamo lì E vabbè Ma la funzione è quella Cioè E vabbè Appunto Sì Solo che lo stile Sai L'ambientazione Con tutto La schermata finale Con tre pentole Due Ok Ok Ma riportate ai vecchi tempi Però Insomma Le novità ci stanno È l'estremizzazione Dello stile Dello stile Della Apple Di Tim Cook Ci sta È un'azienda Un po' sterile Che fa delle cose Molto belle Che forse Ci crede anche Le piccole gag Non so Quando a Frede Federighi Gli ha volato via Ha lanciato via L'iPad Sì sì L'iPad Sì sì Sono d'accordo È un po' Però Suppliscono Alla mancanza Un po' Di spontaneità Nel senso di passione Per il prodotto Magari non sentita Ma semplicemente Trasmessa Con questi Con questi Gibnic Con questi trucchetti Con queste Sia in ambito Di produzione Grafica Esca una carta Dov'è l'asso Attento Forse Forse così Sì Vabbè Vabbè Comunque dai Poi alla fine Il colpo di scena finale C'è stato Ed è interessante Vogliamo raccontare Prima brevemente Un po' Tutto quello Che c'è Che è stato presentato Andiamo direttamente Andiamo alla fine Andiamo al sodo Poi se volete Facciamo un po' Di 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 Andiamo a one more thing Prima di tutto Abbiamo mai sentito dire One more thing Da Tim Cook Guarda Questo non me lo ricordo E credo che sia Veramente non me lo ricordo Non me lo ricordo Ma a me sembra che fosse Una frase di Steve Jobs Comunque erano anni Che non si sentivano Qualcosa del genere E sentirlo pronunciare Conferma che Questa è la scommessa Veramente sul quale Tim Cook Punta tutto Poi l'hanno Specificato molto Parliamo Dell'occhialetto Della maschera da sci Come qualcun altro L'ha definita Di Vision Pro Questo Sistema che Cito le parole Che sono state dette Durante il Dub Dub Dovrebbe essere Il nuovo paradigma Di l'informatica Dopo il Mac Dopo l'iPod Che hanno citato Il controllo con la ghiera Dopo l'iPhone Il Touch E l'universo Touch Adesso è Il Vision Computing Quindi Lo schermo Che ti fluttuo In mezzo alla stanza Quello che noi Geek abbiamo sognato Per anni Special Computing È stato Il termine Con cui è stato definito Special Computing Esattamente Ed è un Veramente un all-in Da questo punto di vista Un tentativo Di creare una piattaforma Molto grossa Sembra Fin dal primo momento Molto completa Per quello che offre Come applicazioni Funzionalità Quindi non è un Offre Non userei il verbo Offrire Oggi userei il verbo Promettere Certo Diciamo Sono assolutamente D'accordo Offre dal punto di vista Di Video Montato ad arte In una presentazione Ma in streaming Che Manco un Conosso di Hollywood Quando è stato presentato iPhone Abbiamo saputo poi Dopo molti anni Che quello che abbiamo visto Che ci sembrava magico E che poi è diventato magico Quando abbiamo L'abbiamo avuto Per le mani E nelle release successive Sempre di più Poi abbiamo scoperto Che in realtà Quella presentazione Era mezza finta Tenuta a galla Con lo scotch Con tutti dei passaggi Assolutamente Obbligati Che Perché A quel momento Non c'era veramente Niente di neanche Lontanamente pronto Sarà uguale anche qui Ci sono due cose Che a me lo fanno pensare E beh No addirittura Next year Giusto Allora tre cose Allora tre cose Allora tre cose Early next year Cioè all'inizio dell'anno prossimo Disponibile dei negozi E novembre 2024 È abbastanza early Oserei dire Non si sa mai Questo non lo sappiamo Però non ha parlato Di disponibilità Per gli sviluppatori No? Che è strana Questa cosa Però È possibile Ci sembra Che sarà un early next year Anche quello Perché altrimenti Avrebbe detto Un demo kit Disponibile Anche perché Non è un dispositivo Molto facile Da simulare Su un simulatore Con lo schermo Come è successo ad esempio Con il lancio Per l'Apple Watch Ma un altro Dei motivi Per cui Cosa stavo dicendo Non sono sicurissimo Che sia Reale oggi Sì Che non sia Che sia addirittura Più in ritardo Di quanto fosse L'iPhone Allora E che allora Abbiamo visto una demo Era tenuta Con lo scotch E con le puntine Da disegno E con i percorsi Prestabiliti Oggi non abbiamo visto Delle demo Oggi non abbiamo visto Tim Cook O Federighi O chiunque Mettersi sulla faccia Allo schermo E far vedere Sul nostro schermo In tempo reale Lui che manipolava Che mandava un messaggio Che apriva una finestra Abbiamo visto Dei video Che potrebbero essere Completamente Anzi che sicuramente Sono Completamente sintetizzati Cioè non era Un teatro Pieno di gente Nel quale far vedere Dal vivo Che mostri Ma non vuol dire Noi non l'abbiamo visto Nel teatro Noi l'abbiamo visto In video In tv Noi abbiamo notato Un florileggio Di green screen Di effetti speciali Di tutto fatto in studio Questo era qualcosa Di veramente costruito E si vedeva Cioè c'era veramente Una scelta Una scenografia falsa Quindi provare a fare Un demo live Con quella sensazione Di potrebbe andar male In una cosa così costruita Avrebbe sonato ancora di più Probabilmente sì Però ha ragione Max Allora Anzi non è neanche Una televendita È un trailer È un qualche cosa È un qualche cosa Di molto più rimosso Dal prodotto reale Di quello che ci Piacerebbe fosse E non Non lo so Mi ha lasciato Un pochino così Mi lascia Tutti i dubbi Allora Io sono rimasto Molto impressionato Dal tentativo Di mettere assieme Tutta una serie Di tecnologie Che poi È in realtà Quello che è sempre Riuscito bene Ad Apple No Quello di Di avere L'idea Che tutti Hanno già esplorato Su cui Tutti hanno già Lavorato E che però Gli riesce In termini Di appunto Interfaccia Utente Di Di fruibilità E così via Da questo punto di vista L'oggetto Mi ha colpito Dal punto di vista Poi che Mentre ci stavo Pensando E mentre guardavo La perfezione Di quei filmati È onestamente Il dubbio di Ma ci siamo Davvero E quel filo Dove va E la batteria Quanto dura E l'oggetto Quanto costa E vabbè Poi l'abbiamo scoperta Alla fine Insomma Parte Ma ci sono tanti 500 dollari Io ho tanti altri Ho tanti altri dubbi La precisione Con cui segui I movimenti Della testa La precisione Con cui riesci a leggere Il testo Di un browser Quanto piccolo Lo puoi far diventare Nel tuo campo visivo Prima che Perdi di legibilità Io ho proprio un dubbio Di fondo Su quanto si adatti Alle diverse capacità Visive Delle persone Come si fa Con i miopi Va bene Con il mio Si risolve Ma io credo Che lì Me li devo togliere Sicuramente sì Sicuramente sì Che cosa del genere Chi lo sa Primo sassolino Fatemi levare Un sassolino Da una scarpa Dal libretto rosso Mesi fa Quando si iniziò A parlare Di queste cose Io preconizzai Che non avrebbe potuto Essere come Oculus Come tanti dei prodotti Di quel genere Un prodotto VR puro Ma che Lo stile Apple Avrebbe voluto Un prodotto Prima di tutto AR E poi eventualmente VR Solo come secondario E in trasmissione Non faccio dei nomi Ma una persona Con la maglietta rossa Quest'oggi Mi ha detto Che no Assolutamente Non poteva essere Sarebbe stato Unicamente VR Ma l'abbiamo cacciato Quello Era evidente Max perché ti sei cambiato Maglietta adesso Non ce l'hai più rossa Come prima Io le magliette Non le metto mai Perché mi ingrassano Sempre camicie Ma comunque Non avrei Non avrei Non ricordo Questa cosa Ma se lo dici Sicuramente Hai ragione Ma Mi lascia Ecco Abbiamo assistito Questo mi piace L'approccio AR Però No no Era Era Per me Era fondamentale Per avere Un qualche tipo Di riscontro Che non fosse I prodotti Unicamente VR Sono limitatissimi Già Nell'idea Ancora prima Che nella realizzazione Perché Sì perché Ti buttano fuori Dal mondo Già Oggi Cioè Lo vediamo Già con questo tipo Di prodotti C'è un problema Di esclusione Dalla realtà Un problema Di Proprio Nel periodo In cui Continuano uscire Studi Che siamo In un'emergenza Epidemica Psichiatrica Specialmente Per quanto riguarda Le nuove generazioni Per l'utilizzo Dei smartphone E applicazioni varie Sistemi vari Sui smartphone Pensare di Chiuderti Completamente Dalla realtà È già qualcosa Credo che non sia Sufficiente Semplicemente Mettere le finestre E farti vedere E farti vedere Lo sfondo reale Trasmettere i tuoi occhi A chi Però Insomma È un punto di partenza Era un Ecco Era un sine qua non Secondo me Ecco Io vorrei Difendere Un secondo Quel simpatico ragazzo Con la manita rossa Che evidentemente Comunque Passatemi Una frase un po' forte Aveva ragione Perché Tecnicamente Questo è un prodotto VR E' uno schermo Buio Chiuso Che proietta Ma vai A installare Sono Ma va Per favore Proietta Però A parte Questo altro Sassolino Mi è arrivato Appunto Questa Comunicazione Da citare Io l'ho letta Senza Volere Entrare nel merito Però raccontiamo Un momento Cos'è Quindi Perché Chi non Avesse Magari Letto Le nove Pagine Di qualsiasi Quotidiano Nove colonne Di qualsiasi Quotidiano Che sicuramente Titolerà Ho visto Come noi La presentazione Diamo Di contesto Questo occhiale E' appunto Una specie Di grassa Maschera Da sci Quelle da Snowboard Come dire Con uno schermo Davanti Che dà L'idea Di poter vedere Gli occhi Della persona E questo Sicuramente Aiuta A poter interagire Con una persona Con gli occhialetti Addosso Chiamiamoli così Dall'altra parte Chi lo indossa Appunto Vede uno schermo Vede due schermi Più di 4k Quindi Ad altissima definizione Che grazie alle telecamere Permettono di vedere Attraverso E quindi di ricostruire Quello che c'è Oltre Questo è Perfetto La summa Sembra anche Abbastanza indossabile Rispetto alle cose Che abbiamo visto Allora Se uno non l'ha visto È inutile ragazzi Chi ci ascolta L'avrà già visto L'avrà già letto Sarà già andato Sul sito di Apple Eccetera Se non Chi ci ascolta in diretta Probabilmente Appena ha visto La presentazione Inutile la facciamo Fondamentalmente Se tu metti Insieme In una Avete presente L'inizio Di The Fly La mosca Il film Il film storico Quello di Cranenberg Sì Benissimo Ecco La stessa cosa Come lì La mosca E l'uomo Entrano nella macchina Contemporaneamente La macchina Fa un mix Qui si butti in mezzo Un iPhone Un Apple Watch Un iPad Un iPad Le cuffie Come si chiama L'AirPods Max Con la loro imbottitura Eccetera E fai un mischione Dal punto di vista Del design Del prodotto Esce fuori Proprio quello E non è Lontano Da quello Che si erano Immaginati Tanti designer La Caratteristica Fondamentale Io la trovo Perché poi Qui dobbiamo andare Oltre quella che è La realizzazione Oltre quella che Dobbiamo capire Secondo me La cosa fondamentale Qual è l'idea Di fondo E se abbiamo Visto il futuro Perché tante volte Quando abbiamo assistito A questi eventi Abbiamo visto il futuro Quando abbiamo visto Presentare l'iPhone Abbiamo visto il futuro Non lo sapevamo Ma abbiamo veramente Visto il futuro Quando abbiamo visto Presentare L'iPad Abbiamo abbastanza Visto il futuro Quando abbiamo visto Presentare Altre cose L'Apple Watch Abbiamo visto Un futuro Possibile Non così ubiquitario Come quello dello smartphone Qui dobbiamo capire Se abbiamo visto Il futuro O meno Può darsi L'idea di Apple Di questo futuro È Il mondo The world Is a canvas For apps Cioè Il mondo È una Come si dice La tela La canvas È il coso La tela È il coso Dove il pittore Mette le tempere No? Come si chiama? È la tela No, è la tela Ah, la canvas Ok Perfetto Il mondo è una tela Per le apps Che dà un'idea Sia poi Del funzionamento Della cosa Che non è Un dispositivo Che negli occhi Ti costruisce Delle cose Simili a quelle Che ci sono Nel mondo Cioè L'esperienza Iniziale L'esperienza Che ti propone Apple Non è quella Ti metti St'affare Inizia a vedere No, i cavallucci marini Che girano per la casa Le stelline Le cose Eccetera No, vedi le app Come le abbiamo Più o meno Sempre viste Per cui te lo metti In faccia Vedi delle icone Le selezioni Con lo sguardo Muovendo le dita Mentre la tale camerina Che punta verso il basso Dalla maschera Inquadra le tue dita Con questi sistemi Immagine Machine Learning Vede che tu fai Determinate gesture E le interpreta Come voglio cliccare Quell'icona lì E ti apre una finestra Di Safari Che tu vedi Sospesa nel mondo Poi clicchi quello Vedi una finestra Di FaceTime Che tu vedi Sospesa nel mondo Clicchi quello Vedi una finestra Di iMessage Che tu vedi Sospesa nel tuo mondo Ma interagisci sempre Tramite delle finestre Ragazzi Siamo a Windows Qui Siamo a Mac OS 1986 Una cosa che mi ha colpito Franco di questo Poi ti lascio concludere Quando hanno presentato I film in 3D Sì O il dinosauro Che in 3D Che entrambi escono Da una finestra Quindi anche L'esperienza in 3D Star Wars in 3D No cos'è che era Te lo vedevi In una finestra Ti do ragione su questo È una contestualizzazione importante Perché l'idea è che tu non sei fuori dal mondo Ma che appunto Nel mondo Hai disegnato questi punti di accesso Non solo Non solo però Però è anche un modo per Come dire Almeno inizialmente È una È anche una Una filosofia Ma umile Cioè Noi non reinventiamo il tuo mondo Cambiandolo Ma semplicemente ci inseriamo Quello che già sappiamo fare Che già tu sei abituato A utilizzare sul computer Capisci? Non è che Quando tu vuoi leggere un'email Compare un testo Per aria Che tu leggi Che scorre Sullo sfondo Della tua stanza Esatto No Tipo esatto No Compare una finestra Con i tastini per chiuderla Per ingrandirla Per allargarla Per spostarla Dove Con i controlli Per lo scrolling Dove tu puoi leggere Il tuo testo Ecco È come dire Vogliamo invadere Il tuo mondo Ma non vogliamo sostituirci Adesso Cioè Sono Sono tutte cose Che sono ovviamente Volontarie Sono ovviamente Decise A livello di design Di progettazione Il vantaggio enorme Che tutte le app Diciamo dell'iPad Probabilmente già funzionano Senza particolare O comunque dell'iPhone Possono funzionare Poi quelle che verranno Abilitate O meno sarà un altro discorso Ma Con questo paradigma Tutto funziona Senza doversi fare Grande lavoro Quindi ottieni Una piattaforma Piena di app A giorno zero E questo è molto intelligente Però la domanda è Ma ne vale la pena? Perché poi alla fine Questo stesso No Faccio l'avvocato del diavolo Certo Questo approccio Chiaramente Che dà la continuità Dà un approccio umile Non ti fa Come dire Fare questi salti Per i quali Tu vuoi restare Come dire Veramente disorientato E così via Però nello stesso tempo Poi il vero valore Aggiunto Dov'è? Quando lo usi Per Disney Plus Beh allora Io penso che Ne valga la pena Perché Sia una bella mossa Dal mio punto di vista Perché Il fatto di Creare comunque Un paradigma Simile a quello Che abbiamo Sul nostro Mac Sul nostro Smartphone Tablet Quello che è Direttamente In una visione spaziale Già ci crea comunque Una complessità Di interfaccia diversa Cioè Noi esseri umani Dobbiamo imparare A non cercare L'app sul desktop Ma a guardare Nella direzione dell'app Piuttosto che Gesti per gestirle E quindi Avremo una nuova UI Da gestire Un nuovo concetto Di spazio Un nuovo concetto Di schermo Questo concetto Ci educherà Magari Versione dopo versione Magari non ROS2 Non il 3 Magari già il quarto Incominceranno A esserci Già hanno fatto vedere A un certo punto Che i messaggi Li puoi tirare fuori E tirar fuori L'oggetto 3D Per cui c'è la possibilità Che piano piano Le applicazioni Sperimentino Magari le terze parti Prima E poi Apple Successivamente Levando i bordi Levando tante cose Però non necessariamente Fin da giorno zero Abbiamo già tanto Da imparare Con utenti Questo è vero Chissà se c'è Il copia in colla Fin dal primo giorno Cosa? Chissà se c'è Scusa Ci abbiamo perso La battuta Chissà se ci sarà Il copia in colla Già dal primo giorno Quello arriva Con la sesta versione Tendono a dimenticarsi Anche perché Il copia in colla Come si fa? Storcendo il naso Ma no Con le dito Fai così Invaso la parte E poi per incollare Dall'altra Non lo so Abbiamo visto Una distopia È distoppico Ho già visto Ho già scorso I commenti Su Mastodon In giro E c'è già Chi già si Preoccupa Di un futuro Che tutti Gireremo Con ste maschere Diciamo che Diciamo che Diciamo che A 3500 dollari Al primo colpo Non pensiamo Che domani Verrà invaso il mondo Però Possiamo pensare Che il prodotto Che oggi costa 3500 dollari Nel giro di 5-6 anni Ne costi 1000 Ne costi 1000 Magari 1200 1300 1500 1500 Il costo di uno smart Quanto costi In effetti Il primo iPhone Costava 300 euro Sembrava tanto Abbiamo visto Che Apple È in grado A volte Di far Come dire Abbassare la soglia Di quello Che viene considerato Alzare la soglia Di quello Che viene considerato Fattibile Non so se voi Utilizzate gli Airpods Se avete Utilizzate gli Airpods Gli Airpods Secondo me Hanno fatto un po' Da apripista Perché al contrario Di tanti altri Tipi di cuffie Con Le varie metodi Di trasparenza Di blocco del rumore Di operabilità Attraverso Siri Ci hanno già fatto A me capita Di Tenerle nelle orecchie Più di quello Che era L'utilizzo normale Di una cuffia Ascolto la musica Mi metto le cuffie Ascolto i podcast Mi metto le cuffie Poi me le tolgo Adesso è diverso Non è Una costante La mia giornata Anzi Sono momenti Comunque ancora limitati Però Mi è venuto Molto in mente Guardando questa presentazione E pensando agli Airpods Che io Il venerdì Sera Finisco di lavorare In studio Faccio la valigia Mi preparo a uscire Prima di uscire Tiro fuori le chiavi Per vedere Di avere le chiavi Tiro fuori gli Airpods E me li metto Nelle orecchie E non perché Mi metto ad ascoltare musica Ma perché Prima o poi Durante il viaggio Le ascolterò la musica Però intanto esco Mentre esco Con le mani impegnate Dalla valigia Dico Alla mia assistente vocale Di chiamare casa E quindi chiamo Eloisa Dico guarda Sto andando in treno Eccetera Poi mi arriva la notifica In automatico Perché ce l'ho nel calendario E mi dice Qual è il binario Il vagone Dove devo salire E il numero del posto Poi se ce l'ho Tanto mi toglie Una parte Dei rumori molesti E non troppo Per strada Che non è male Quando vado per strada Eccetera Dopodiché Se voglio iniziare A ascoltare un podcast Della musica Devo solo cliccare O dirlo All'assistente vocale Se funziona E questo è un grosso Punto interrogativo Anche per gli occhialini E farmi continuare Il mio viaggio E mantenere Il mio livello di stress Da rumore basso In treno Perché mi cancellano il rumore E quindi ho un'esperienza lunga Che non è più limitata Solo al periodo In cui ascolto La musica e i podcast E questo è già E mi sono visto Poter fare La stessa cosa Con questi Vision Pro Con un dispositivo Come il Vision Pro Esattamente E tu dici Uno non è che Ne diventa schiavo Però può aumentare La Se è molto calibrabile Aumentare Esatto Se è molto calibrabile Se non è invasivo Ecco è ovvio Che se questo affare qui Me l'avesse dato Zuckerberg È ovvio Che mi vuole tappare gli occhi E far vedere solo Le sue pubblicità E solo le sue inserzioni Apple ha un modo Una storia Un modello di business Diverso E può avere anche L'idea di Appunto Di crearti Semplicemente Delle possibilità Che tu Prendi Che tu Cogli Solo nel momento In cui tu veramente Ti interessano Per cui di nuovo Metti l'occhiale Esco dallo studio Chiamo casa Faccio una videochiamata E mentre vedo la strada Devo attraversare la strada Giro per la stazione Va dai binari Vedo invece Fare una chiamata Faccio una videochiamata E vedo Eloisa Con FaceTime In un angolino In basso Per cui posso vederla Con la coda dell'occhio Posso sentirmi più presente Ma senza occludere Tutta la vista Posso avere Delle indicazioni Invece di sentire La notifica Che mi dice Quale binario Che ore eccetera Avere la navigazione Con la freccia Che mi dice Entra lì Vai lì Vai lì Che nella mia stazione Può servire a poco Ma se sono in una stazione Dove sono stato poco O in un aeroporto O in un posto di cose Può essere molto utile Non so Può aumentarci In qualche modo Se fatto bene Se tutto va Per il verso giusto Se non ci mettono Sopra le mani Marketers Eccetera C'è la possibilità Che anche questo Sia una bicicletta Che sia aumentativo Rispetto alla nostra esperienza Ci sono una serie Di ma Di se E di forse Da identificare Però Quando lo alleggeriranno Tutto quello che vuoi Tutto quello che vuoi Che durerà di più la batteria Che sarà più leggero Che sarà più trasparente Che tutto quello che vuoi Però Se oggi Se il futuro È in quella direzione lì Se fino ad oggi Tutto quello che avevamo visto Era Oculus O robe del genere Oggi L'apparenza Poi a dare giudizio Preliminare Definitivo Aspettiamo che Qualcuno abbia in mano I primi prodotti Dobbiamo almeno Darci un prototipo Però L'idea È che sia un passo Enorme In quella direzione Rispetto a quelli Fatti fino ad oggi Con PlayStation VR Oculus E compagnia Sì Come dicevi tu Il sospetto Da come è andata La presentazione Anche rispetto A quello che hanno detto Che hanno fatto fare A chi Gli hanno già dato I prototipi E così via E che effettivamente Siamo ancora lontani Anche dalla disponibilità Di un po' di prototipi Da far testare Anche che sono I laboratori universitari Io ci provo A vedere se per caso Con i contatti Apple Qualcosa ci arriva O i podcaster di digitali Anche se proviamo Proviamoci Viene in fondo Però capisco La tua visione E la trovo interessante Per il momento Secondo me È ancora un po' lontano Effettivamente Da questa Ha deciso di fare Un primo passo È una cosa Che mi ha sorpreso Ed è una cosa Di nuovo Se è vero Se non è una roba Sintetizzata Con la CGI La Finta trasparenza Che tu vedi Gli occhi della persona Che noi ci immaginavamo Come una cosa Molto uncanny valley Come l'abbiamo vista In questi video Non era così Uncanny valley Sembrava Come l'abbiamo vista In questi video Sembrava Era impressionante Perfetto Era esatto Sembrava una maschera Trasparente C'è una bella potenza Di calcolo Sì Ma non basta Sai la potenza Di calcolo Ci sono Cioè La potenza Di calcolo Ce l'ha anche Mark Zuckerberg Quando fa i suoi Omini Senza le gambe Nel metaverso Ma di lì a dire Che Ha superato Per cui Se questo è un primo Tentativo Non lo so Io ho sempre il dubbio Che tanto oggi Si fosse aggiustato Tramite computer graphics Roba sintetizzata E non ha fatto niente Tim Cook Per convincermi Del contrario Però aspettiamo E vediamo Da questo punto di vista Non ci fa immaginare Che abbiano fatto Un salto nel buio Però ricordiamo Che tanti Ingegneri di Apple Dai rumors Che abbiamo sentito E gente Anche di un certo livello Non era d'accordo A lanciare oggi Proprio per l'immaturità Del software E dello sviluppo E Se Tim Cook Non è un uomo Di prodotto Lo è ancora Meno di software E quindi Se è stato lui A forzare la mano Pensando di riuscire Ad arrivare a gennaio A un qualcosa di Solido Mentre magari I suoi ingegneri Gli dicevano È un po' troppo presto Questo un pochino Mi fa preoccupare Anche perché La capacità Di Può essere Franco Che Può essere Che il compromesso Ottenuto da questi ingegneri E Tim Cook Sia stato Ok Usciamo Ma senza Un modello Dimostrativo Per sviluppatori Perché effettivamente Al DubDub Non avere Un modello Ad uso sviluppatori Per iniziare a testare Per iniziare a fare qualcosa Sembra strano È la prima cosa Che abbiamo notato Noi sviluppatori Non lo sappiamo Non lo sappiamo Perché poi Qui hanno annunciato Questo Poi oggi pomeriggio Pomeriggio californiano Platform State of the Union Poi una settimana intera Di roba per sviluppatori Può darsi che inizino Ad annunciare Un progetto Per sviluppatori A dire Guardate Non dovete aspettare Fino a gennaio Ma da settembre Ottobre Per chi è interessato Mettete qui 4.000 euro E noi ve lo mandiamo E se ci firmate Può darsi Andiamo Li avranno lì? No Non penso Secondo me non ce li hanno Perché oggi È diventata Negli anni Dal covid in poi Totalmente online Ma c'è un tot di persone Che possono essere presenti Sì Un numero grosso Quindi la domanda è Queste persone Vedranno un banchetto In cui potranno indossare 30 secondi Questi occhiali Io penso Questo lo scopriremo Domani Questo è molto interessante È certamente interessante È certamente interessante Il fatto che non abbiamo visto Una demo Mi fa pensare Di no Che non esista Proprio oggi Un prodotto Materiale Completo In scatolato In grado di fare Quello che promettono E che tutto quello Che abbiamo visto Sia appunto Dei rendering Delle demo Delle cose Animate Precostruite Però Vediamo Lo scopriamo Lo scopriamo Veramente presto Non mi viene in mente Altro Per il momento Aspettiamo di leggere Di più Di leggere I commenti Di chi è più bravo Di noi A commentare Queste cose Magari ci torniamo Nelle prossime puntate Avete Qualche altro Qualche altra cosa Che vi ha colpito Nelle presentazioni precedenti Perché non starei a fare Il ricapitolo Digitalia Non è più quello Non è più Cosa Abbiamo visto Da mio punto di vista Tutto in continuità Questo effetto Televendita Per i normali Passi avanti Che uno Si aspetta Ci sono Due o tre cose Prima hai raccontato Il copia e incolla La funzione Di quest'anno È I pdf Stiamo sempre Su quel livello Di aggiornamenti Sì Tu presenti La nuova versione Del sistema operativo E la prima cosa Che fai È lo screensaver Non so se lo avete notato È vero È vero Novi screensaver È vero Non era pienissimo Ma per tanti Tanti sognavano Tanti sognavano Delle release Snow Leopard No Specialmente i geek Sognavano Una release Vuota O sgonfia Di new features Ma Ben studiata Sul miglioramento Delle cose Preesistenti E dell'efficienza E della stabilità Non lo sappiamo Perché sicuramente Sono rimasti in tre A sviluppare macOS E tutti gli altri Hanno messi a lavorare Su Vision Pro Però La speranza La speranza c'è Però due o tre cosine Che secondo me Ovviamente sono incrementali Ci mancherebbe Non si inventa Non si inventano Cinque Vision Pro Ogni WWDC Però delle cose Un po' interessanti Le ho viste Abbiamo parlato Ad esempio Abbiamo detto Qualche settimana fa O forse la settimana scorsa Che se non avessero Parlato Menzionato O presentato niente In chiave LLM O reti neurali Sarebbe stato un po' La cosa L'elefante nella stanza Effettivamente Non hanno mai Nominato Hanno citato Tanto Machine Learning Hanno citato Per quanto riguarda Le capacità Degli hardware Ma hanno fatto vedere Un paio di features Una che mi è rimasta Che è molto Molto Bella e interessante Che è quella Della trascrizione In tempo reale Del messaggio Vocali Che ti lasciano Nella segreteria telefonica Quello lì ecco È una cacchiatina Però è una cacchiatina Che questi smartphone Ce ne abbiamo Da dieci anni E che veramente Ti aggiunge un qualche cosa Non rispondo alla telefonata Mando in segreteria La persona può lasciarmi Il messaggio Ma mentre parla Io vedo Sullo schermo Trascritto Quello che mi sta dicendo E posso dire No cacchio È urgente Prendo la chiamata Quello è una cosa Secondo me Possibile oggi Grazie a questi sistemi E che aggiunge Veramente qualche cosa Ai nostri Ai nostri telefoni Ecco Questo è una cosa I messaggi FaceTime Per cui la possibilità Di lasciare Dei messaggi video Come fosse Una segreteria Telefonica video Che è carino E Su iPad Non ho visto Praticamente niente Di interessante L'adaptive audio Di Airpods Che di nuovo Ci porta Un pochino Di più Verso Vision Pro Cioè La trasparenza O meno Del suono Che cambia A seconda Di dove siamo Che tipo di suoni Stiamo ascoltando Gli Airpods Diventano più o meno Trasparenti Bloccano più o meno I rumori Se arriva una moto A tutta velocità Me la fa sentire Se sono a fianco Alla strada Perché rischio Di essere investito Ma se sono in casa Non me la fa sentire Perché mi darebbe Solo fastidio Tutte cose del genere Un'altra cosa Non so Io vado a ruota libera Interrompetemi Se volete aggiungere Qualche cosa Sì 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 Quello dell'Airplay Negli hotel Il Mac Pro Il Mac Pro Perfetto Il Mac Pro Tanti si chiedevano Effettivamente mi ha fatto dire Molto bello Sì Beh Bella macchina Bruttissima Da fuori Come sempre Con quei buchi Che sembra Di vedere Il computer Di Cthulhu Però A parte L'aspetto Molto interessante Come sviluppi Di hardware Sì La grattugia Reloaded Tutti ci chiedevamo Tutti ci chiedevamo Se l'architettura Di Apple Silicon Sarebbe mai andata Verso PCI E verso quindi Espansibilità esterna E oggi Ne abbiamo avuto La riprova Il Mac Pro C'ha gli slot PCI Di ultima generazione Quindi con la possibilità Di espandere Di mettere immagino Tra le varie schede esterne Anche quelle video E non quindi utilizzare Solo La scheda video integrata Nel chip Che era un grande dubbio Da parte Dei Di tanti esperti Leggevo Non il Mac Pro Ma il Mac Studio Nuovo Può Supportare fino a Sei schermi HDR Quelli giganteschi E cose Sei Che quindi Prendeteci Tapezzi una stanza Che te ne fai Del Vision Pro Sei schermi E quello che dicevo E appunto Conta però Quanto ti costano Sei schermi HDR Più di stand Più di stand Conveniente Il Vision Pro Conviene Capito Perché c'è tutto Dentro In un colpo solo 3000 euro Ti bastava Vi dico altre due feature Cacchiata Che non mi sono Dispiaciute Che aggiungono Qualche cosa Airplay negli hotel Che qualora fosse Associabile A un qualcosa Di disponibile Anche per Android Tipo se le macchine Come le automobili Ti danno sia Carplay Che Android Auto Tu arrivi Nella camera d'albergo La tv è accesa C'è un QR code Lo scansioni Con l'iPhone E puoi utilizzarlo Con l'iPhone Puoi trasmettere I tuoi video Puoi vedere Apple TV Plus E se fosse una cosa In parallelo Fattibile Con Android Perché se no Credo che nessun albergo Nel mondo O comunque Ben poche catene Penserebbero di fare Qualche cosa Che esclude Il 40 60% 70% Dei suoi clienti Ovvero quelli Che non hanno Un iPhone Ma un telefono Android Però una soluzione mista Sarebbe Sarebbe una bella esperienza Arrivare in una camera d'albergo Io oramai mi porto dietro Gli ultimi viaggi Mi sono portato dietro L'Amazon Stick Perché tanto oramai Sono tutti schermi televisivi Con HDMI Negli televisori E ficco Il mio Fire Stick TV Già configurato Lo collego Alla rete dell'albergo Se è veloce Se non è veloce Lo collego in pairing Allo spot personale Del mio iPhone E mi ritrovo Il mio Netflix Il mio Amazon Prime Il mio Disney Plus Il mio Apple TV Plus Esattamente come a casa In albergo Mi guardo i miei video Una volta dovevo farlo Direttamente sul Guardarlo sul portatile Oggi me lo guardo Spaparanzato a letto Sullo schermo E quindi appunto Sono feature Che possono Non stravolgere La nostra esistenza Ma piccole comodità E l'altra cosa Che mi è capitata Spesso È quella del CarPlay Condiviso No Partiamo per Un viaggio Con la famiglia E mentre iniziamo A ascoltare musica Un podcast Eccetera Bea inizia a parlare Del pezzo Della musica Che E vuole farcela ascoltare E allora io mi devo Mettere lì E con Siri Cercare di far capire A Siri Che voglio ascoltare Il nuovo pezzo Di Sfera E basta E pinco pallo E Siri E Siri Non lo capisce mai E invece Avere la possibilità Che Bea Prende il suo telefono Beh non è Devi accettarlo Non è che Bea Può fare Quello che vuole Con la mia autoradio No Ciao Bea Innanzitutto Salutiamo Bea Che ci ascolta Mi sembra il minimo Insomma Che tu Apri uno spazio Delle nuove generazioni No lo apri Ma ovviamente Con un controllo Da parte di Quella rocca Che senti sempre tu Da parte Con il controllo Da parte di chi guida Cioè con un tasto Tu puoi Vedere E accettare Il La condivisione Della musica Credo per ora Della musica Non capisco Se anche altri contenuti Sono condivisibili Non so Le mappe O le destinazioni O robe del genere Però almeno la musica E permettere Diciamo La musica Come era già Con Spotify Ok Perché con Spotify Si poteva già fare Una roba del genere Cioè se hai Spotify Sulla macchina Potevi già fare Una playlist Gestita Ah vabbè Ho capito Una playlist Certo Certo Quello D'accordo No 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 Proprio il DJ Cioè In tempo reale Cioè qui è in tempo reale Sì 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 Cioè ognuno può controllare Cosa c'è in onda Sì sì Questo lo capisco Qui è un po' più evoluta La situazione Ed è in tempo reale Io ti propongo un pezzo Col mio telefono E tu che sei alla guida Lo vedi comparire Sulla tua autoradio E decidi di dare Far fermare La tua musica E far partire la mia E cose del genere Sono piccole cose Che però secondo me Nell'uso comune Possono avere un senso Hanno investito tante Ha fatto un gran can can Per cose che hanno avuto Molta meno Molta meno risonanza Tipo le applicazioni Per i message O robe del genere Diciamo che queste Possono essere così Un po' più rilevanti Nella vita di tutti i giorni Se avete qualcos'altro Mi ha stupito vedere A me è piaciuto il check-in Il check-in Ah quel fatto che puoi In qualche maniera Programmare Il ritorno a casa Il fatto che venga Segnalato automaticamente Il ritorno a casa Sì Esatto Una funzionalità di sicurezza Sai il Sto tornando Sappi che arrivo Fra un quarto d'ora L'iPhone mi traccia La posizione Quindi In tempo reale Appunto dice Sto arrivando Se uno ritarda Può dire Tranquillo Va tutto bene Altrimenti L'ultima questione Conosciuta Viene segnalata E chiaramente Ci si muove A quel punto Per vedere di capire Che è successo Può essere veramente Molto utile Come Lo è Lo è certamente Come amico Per poter dare supporto È vero È vero Sono quel tipo di feature Che di nuovo Il fatto che Siano limitate Solo a iOS Ne riducono In qualche modo La 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 diffusione L'utilità Per certi versi Per un altro canto Difficile pensare A una roba del genere Aperta A chiunque E che Sia in grado Di rispettare La privacy E non essere abusata Per cui certamente Non è Non è un equilibrio facile Va bene Direi che con le novità Di primo brucio Abbiamo appena Abbiamo schiacciato Il tasto record Di questa puntata Nel momento esatto In cui è finita La presentazione Per cui Ci sarà sicuramente Ancora da approfondire Da parlare Lo faranno altri Ci torneremo noi Quando sarà interessante Vedo solo che Francesco mi mette La foto E dice che L'hanno visto Ma non si tocca Ma non si tocca Quindi c'è il pezzo Di plastica Ma non sappiamo Neanche se è acceso Non pensavamo Che i rendering Che fosse tutto CGI No Certamente Ci fosse un oggetto fisico Certamente E beh Però già interessante Ci sono le foto Da alcune giornalistiche Sta lì Guardate Va bene Ok Lo approfondiamo E passiamo al resto La nostra trasmissione Cominciando però Ringraziando il nostro sponsor Due minuti Squarespace.com La migliore piattaforma All in one Per pubblicare sulla rete Qualsiasi necessità Di creare e gestire Siti internet Beh Squarespace È la soluzione Completa Ideale È facile da usare Non c'è bisogno Di installare plugin Basta trascinare Gli elementi desiderati Dal pannello di controllo Direttamente sulle pagine Esattamente dove le vogliamo Dove vogliamo che appaiano Poi ai visitatori del sito E abbiamo elementi Di qualsiasi tipo Audio Video Mappe Immagini Portfoglio Gallerie Player audio Appunto Tutto quello che vogliamo E poi fully managed Che vuol dire Che non dobbiamo gestire Niente Non dobbiamo gestire Aggiornamenti Sicurezza Bug e robe del genere Fa tutto lo staff Di Squarespace Per noi Ci sono strumenti Per creare Negozi online Completi Tant'è che Squarespace È utilizzato da centinaia Di migliaia di negozi In tutto il mondo Con le opzioni Che vi aspettate Per gestire Un sito dedicato Alla vendita online Di qualsiasi cosa Per cui Il magazzino Il carrello La carta di credito L'invio degli ordini La gestione dei clienti Mandare le email ai clienti E robe del genere E I famosi design I design unici Originali Speciali Sono veramente speciali Quelli di Squarespace Perché hanno un team Di designer Di livello proprio top Che creano Questi temi Che potete Prendere Piazzare Scambiare Uno con l'altro Senza cambiare Il contenuto Senza ricominciare Da zero A riscrivere Il vostro sito E poi potete Personalizzarli Come volete In modo che Il vostro sito Sia personale È diverso È diverso da qualsiasi Altro sito Su Squarespace Ma di apparenza Bella e professionale Come qualsiasi Altro sito Su Squarespace Provatelo Andate su Squarespace.com Slash Digitalia E attivate La vostra Trial gratuita Non dovete mettere A carta di credito Nessun impegno A pagare Quando smettete Di utilizzare La trial Non succede Assolutamente niente Ve ne dimenticate Il giorno Però Che vi viene Comodo Ricordatevi Di Digitalia E succede Ve lo assicuro Succede a tantissimi Digitaliani Quando li incontriamo I digitaliani Per strada Le pizzate Quando ci scrivono Quando ci scriviamo Su Slack Capita spessissimo Di qualcuno Che ci dice Ma sai che Non pensavo Ma alla fine Mi è venuto Mi è venuto Comodo Squarespace Per fare il sito Per il ristorante Dello zio Perché volevo Mettere su E vendere Svuotare la cantina La soffitta I miei Fare una vendita Capita spessissimo Quando capita a voi Ricordatevi di Digitalia Perché Digitalia è Il promo code Che vi dà diritto Al 10% di sconto Sul primo anno Di abbonamento Per cui Grazie a Squarespace Per questo sconto Codice coupon Digitalia 10% di sconto Sul primo anno Di abbonamento Grazie a Squarespace Per aver sponsorizzato Anche questa puntata Di Digitalia Cos'è sta storia Della bandiera gialla Del Vaticano Max Tu sei il nostro Vaticanista Bandiera gialla E niente La storia è semplicemente Che probabilmente È un altro ammonimento Sul futuro Nel senso di quello Che può accadere Con l'uso Della rete E quello che è successo È che Wikipedia Ha ospitato Per motivi Non meglio Precisati Probabilmente Legati addirittura Come dire Ad una Anche Anche proprio Ad una fonte Che potesse anche Venire dal Vaticano Ma ha ospitato Una versione Un'immagine Scusami Della versione Della bandiera Dello Stato Vaticano Che era diversa Dalla quella ufficiale E questa cosa Dal momento Che come sappiamo Wikipedia Venne spesso utilizzata Come punto di riferimento E come sorgente Di fatto Ha fatto sì Che questa versione Fake Nemmeno Insomma Questa versione Lievemente alterata Perché poi Io sono andato A guardarla Le differenze Sono veramente Un pochino Trascurabili La tiara papale Sotto C'ha Una piccola Elissoide Rosso Invece che bianco E la sfumatura Di giallo Della tiara In quanto tale Non è esattamente Quella giusta E un po' più chiara E così via Devo dire Che ha un colpo D'occhio Non particolarmente Attento Non si vedevano Queste enormi differenze Però È una bandiera Ufficiale Di uno Stato Per cui Questa cosa Come dire È stata evidentemente Anche come Un esempio Di come poi Da un lato I meccanismi Di Wikipedia Consentano Una continua Un continuo Confronto Perché l'errore A quanto pare Era stato individuato È segnalato Quasi subito Però Stato di fatto Che nessuno Poi ha dato seguito A questa segnalazione Sono passati Cinque anni Questa immagine Sbagliata Ha circolato Dappertutto È stata utilizzata In tantissime Situazioni Dai media E solamente Da poco Qualcuno Si è accorto Effettivamente Di questa segnalazione Ed è passato A correggere L'errore Ma ovviamente Come sappiamo Una volta scoperchiato Del vaso di Pandora La bandiera del Vaticano Ormai circola In maniera Diciamo Un po' diversa Da come Lo stesso Vaticano La propone Non è un errore grave Ma è quello che No? È una di quelle cose Che ti fanno capire Come Quanto la potenza Del social network Lo spazio Dell'informazione È fragile Basta poco No? Per mettere La cosa sbagliata L'informazione Sbagliata Nel posto giusto E la fai riverberare Poi oggi Qui Non è entrato Neanche in gioco Ma se Pensiamo che Una cosa del genere Possa finire Magari nel set Di allenamento Di training Di una Di una rete neurale Poi magari utilizzata No? A livello globale Quella di Di Google Quella di Microsoft Sarà finito di sicuro Eh sì Certo Questo ci aiuta Perché quando L'immagine Costruita Dalla intelligenza artificiale Dimostrerà Che le Mostrerà Che le truppe papali Stanno per invadere La Pennsylvania Si scoprirà Che non è vero Perché Chiaramente Il colore Della tiara Della glissoide Della tiara E la tiara E rossa E non bianco Ci ha salvato Sono finte Non sono i truppe papali Ma è Putin Di nascosto Che si è travestito Che si è travestito Da papa Francesco Non è il papa Non è il papa Vabbè Notizia Notizia Una delle notizie Più geek Che E soprattutto Una delle leggi Più geek Di cui abbia mai letto Nella storia Di Digitalia Il governo Olandese Rende Obbligatorio Per i siti web Avere un file Security Security.txt Francesco Spiega Per i siti web Governativi Diciamolo subito Ok Quelli governativi Allora Security.txt È un È un formato standard In realtà Uscito Se non mi sbaglio Nelle satelie 2022 Ad aprile 2022 Come Standard Appunto Approvato Anche se Aveva parecchi anni Che se ne parlava E Rientra in quei file Di testo Che tipo Robots.txt Probabilmente uno Dei più conosciuti Ma non è l'unico Che può essere messo In un dominio Per dare Delle informazioni Leggibili A esseri umani Ma anche a macchine Quindi sono file Codificati in un certo modo E in questo caso Contiene tutte le indicazioni Su come fare Una segnalazione Di sicurezza Nel modo giusto Quindi quali sono Magari le chiavi PGP Per firmare Un'indicazione A che indirizzi Mandarli O come contattarli O quali sono Le policy Di disclosure Eventuali Che Il possessore Del sito web O del servizio Intendono utilizzare Intendono appoggiarsi Eventualmente anche Dei bug bounty E tutto quanto È un modo Perché se uno Trova un Problema di sicurezza In un sito E decide di Passare l'informazione Non è facile capire A chi dare L'informazione Io uno trova Un software Non aggiornato Un buco Un problema Chi chiami Chiami Il webmaster Sì ma chi è E questo Formato di file Fondamentalmente Permette E facilita La condivisione Di scoperte Di questo tipo In maniera Facile Semplice E gestita Anche eventualmente Da software Standardizzata Soprattutto Certo Immagino Tutti questi cittadini Olandesi Che a questo punto Si mettono lì A cercare i bug Dei vari sistemi Operativi Per segnalarli Ai webmaster Di competenza Beh Fra I più simpatici Parametri Che possono messere C'è un URL Un indirizzo Chiamato Acknowledge Quindi L'Hall of Fame La lista Di quelli Che hanno contribuito E un altro Che si chiama Jobs Quindi Se hai trovato Un bug Nel mio sito Vai su questo sito E ti trovo Un lavoro Va bene Insomma C'è anche una Motivazione economica Per riuscire a trovare Problemi E segnalare Nel modo giusto È all'avanguardia Questo Indubbile Visto che siamo Nell'ambito Delle notizie Hyper geeky Questo tizio Che ha pubblicato Questa sua storia Di vita Bellissimo Su Mastodon Che Dopo che ha bruciato Il palazzo Dove era Ospitata L'infrastruttura IT Della scuola Locale Della scuola Superiore Locale La sua azienda Ha deciso Di donare Uno switch Juniper X 3200 Per aiutarli A rimettere in piedi Tutta la situazione E lui aveva Partecipato All'installazione Eccetera Hanno costruito Una piccola Casetta Non tanto isolata Ma Velocemente Per mettere in piedi Tutto il sistema All'infrastruttura Informatica E Dopodiché Si sono incacchiati Come delle bestie A cavallonato Non partì Perché in realtà Non partì Cioè Si accendeva E dopo pochissimi secondi Si spegneva Diceva Vabbè Volevate farvi pubblicità Fare il bel gesto Ma ci avete regalato Una roba farlocca Che non funzionava Cosa ha scoperto Il tipo Andando a Ovviamente preoccupato Diceva Ma no Questa è una cosa nuova Deve funzionare Eccetera Allora Fondamentalmente Il Tutta la Il problema Era Costituzione Nel fatto Che La CPU Indicava Che la temperatura Del dispositivo Era di 252 gradi Centigradi E quindi Diceva Vabbè Sai cosa Io mi spengo Prima di mandare Di nuovo A gennaio Tutta la scuola Esatto Perfetto E ovviamente La temperatura esterna In realtà Era di 3 gradi Sotto zero Cosa è successo Che in realtà Questo dispositivo Salvava Grandi sviluppatori Salvava La temperatura Per risparmiare Spazio Ragazzi Spazio memoria Importante In Un Valore Intero Per di più Unsigned Cioè Senza segno Un intero Senza segno Può andare A 8 bit Che può andare Quindi da 0 A 255 E ovviamente Quando la temperatura Superava Scendeva Al di sotto Dello 0 L'unico modo Che La macchina aveva Era di codificarlo E certamente E la famosa Aritmetica circolare E certamente Per cui Il meno 8 Era in realtà Era 255 E meno 8 Per cui la CPU Era convinta Di essere A 252 Grad 250 Grad Sopra Lo 0 E si spegneva Automaticamente Dice Non mi sarei mai Aspettato Nella mia vita Di riparare Una cosa Di riparare Una cosa Con una pistola Una hit gun Con un foglio Praticamente Ma la hit gun È proprio Credo Quella per sverniciare Lo sverniciatore Che spara Il caldo Su una vernice Dice Con quella lì L'abbiamo tirato su Di una ventina Di gradi E a quel punto È partito E funzionava bene Poi una volta partito Il calore autogenerato Dalla CPU Lo manteneva Allì sopra Dello 0 E quindi Continuava a funzionare Non male Per cui portatevi Sempre Lo sverniciatore I programmatori Hanno deciso Che era più facile Ricordatevi Che i bit Insomma Si contano Bisogna capire Quanti ne servono Ecco Questo è Francesco Volevi aggiungere qualcosa Ti abbiamo interrotto No Forse sei un po' laggato Sì no Dicevo È stato interessante Notare come i programmatori Abbiamo deciso Che era più probabile Superare i 120 gradi Di temperatura Che non andare sotto 0 Da questo punto di vista Scegliendo Questo tipo di Di unità di misura Però vabbè Sì Probabilmente Fa caldo Nessuno mette in esercizio Una macchina del genere Sotto 0 Ero sbagliando Ma come so io Cioè Se con te Ha sbagliato Chi l'ha messo In esercizio Sotto 0 No Ha sbagliato No No Dico che Il progettista Del software E di quelli Che hanno gestito La macchina Ha fatto Questo stupido Ragionamento Sì Secondo me Non l'hanno neanche Fatto il ragionamento Non hanno neanche A volte Ha messo il byte E poi c'è così Quando a volte Ma poi il byte Sarebbe stato sufficiente Se fosse stato Interpretato Come un intero Con segno Perché da meno 128 A più 128 Direi che nel range operativo Dell'essere umano Ci stiamo Ma poi Il problema Non era tanto Gli 8 bit Alla fine dei conti Ma era Il fatto che fosse Un intero Senza segno E che quindi Quando andava sotto 0 Il segno L'ipotesi del programmatore Era tutto sopra 0 Alla fine Sostanzialmente L'errore è quello L'errore è quello Dei casini Della Elizabeth Holmes Soprasederei Perché non Non trovo Non so Sì dai Poi c'hanno ormai Poverina C'hanno intristito Proseguiamo Il band di TikTok Ci intristisce In un altro modo Ma se volete Chi l'ha messo? Francesco Dai sei tu responsabile Parloci del band di TikTok Sì In Mesopotamia No in cui è stato È stato bannato TikTok Non è uno In Missouri In Minnesota Non mi ricordo più In Sì è un In Montana In Montana Allora È un In realtà Questo articolo Del Meet Technology Review Più che raccontare Del ban Che è stato fatto In Montana Fa una domanda Che un po' Tutti ci facciamo Come si può Operare Proprio a livello Pratico Il ban Di un'applicazione Del genere In uno stato Fra l'altro In uno Singolo stato Appartenente Ai Stati Uniti D'America Ad esempio La domanda È importante Perché Un'applicazione Nel studio Gli app store Non sono Geolocalizzati Dal punto di vista Della regione Sono localizzati Per country Quindi per nazione Ma al momento Non è che c'è Il modo di dire In Montana No Tutto il resto Sì Poi basterebbe Effettivamente Spostarsi di stato In qualche modo Tramite Qualche artificio Per riuscire a installare L'applicazione E mantenerla Quindi c'è proprio Un po' Un tentativo Di riuscire a capire Come Dal punto di vista Pratico Quindi Tecnico Non solo Legale Sia possibile Rendere vero Una iper Balcanizzazione Di blocco Dell'utente nel Montana O Un bel pop up Sei nel Montana Sì No Un po' Come certi siti Che ti chiedono Sei maggiorenne Sì No Però A quel punto Poi basta Molto poco Per dire No Non solo In Montana È una riflessione Sul fatto Che appunto Le barriere Diciamo Fisiche E Legislative Legate Alla geolocalizzazione Possono In effetti Ben poco Rispetto a questo Tipo di applicazione A questo tipo Di tecnologia Nella quale Oggi siamo immersi No Però l'articolo Se non ricordo male Fa proprio Una riflessione Su questo Che alla fine Dice I legislatori Ne sono ben consci Non è una cosa Che capita Come nel passato Magari per ignoranza Ma è un segnale politico Vuole essere Un qualche tipo Di segnale politico Che viene lanciato Dicendo Questa cosa È alla nostra attenzione Questa cosa Vogliamo che venga In qualche maniera Regolamentata Cerca forse Anche di creare Un consenso Intorno a questa A quest'idea È un segnale politico Verso l'alto O verso il basso Verso l'alto Cioè verso La politica più alta E dice Quindi pensate Se implementare Il ban A livello proprio Federale O verso il basso Cioè verso I tuoi elettori O possibili elettori Vedete che io sono Attento a queste cose Io non voglio Che i vostri figli Finiscano predati TikTok E ve l'ho bannato Più la seconda Della prima Decisamente La seconda Anche se le due Non sono in esclusione Certo Tutto sommato Certo 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 Abbiamo visto È un po' quello Che abbiamo vissuto Con ChatGPT Col ban in Italia Perché poi alla fine Il ban in Italia Era banalmente Ma non era un ban Era banalmente No Era una cosa molto diversa Non era un ban Quello in Italia Era una richiesta Non c'era un ban Come legge Ne hai ragione Era una richiesta Di compliance Poi No scusa Sono stato io OpenAI ha detto No non siamo sicuri Sospendiamo Sospendiamo E vediamo Che cosa Poi Sono stato io Impreciso Però di fatto La situazione Era molto simile Perché poi Rispetto Alla questione Diciamo Tecnologica Nel senso Che bastava Una VPN Qualunque Di quelle gratuite Per cui l'utente italiano Tranquillamente Poi aggirava Anche questa Autosospensione Da parte Dell'azienda No Questo volevo dire Anche se ovviamente I due contesti Sono diversi Perché in questo caso Non c'è una legge Che tu stai violando Pensate Se è più facile Avrete nella vostra casa Presto Un dispositivo Quello di Tim Cook Vision Pro Cose del genere O un robot Che vi fa il maggiordomo Che vi apparecchia Sparecchia la tavola Mette i piatti Nella lavastoviglie Ma che dubbio Ti pulisce per terra No non lo so C'è un dubbio Ma di sicuro Robi il robot Che scherzi Tu dici Beh Potendo scegliere a parità Decisamente il robot Beh È un momento difficile Però Costo un po' in più Costo un po' in più Beh Ecco Allora Un conto è Quello che è il tuo desiderio Max Però è anche appunto Il discorso della realizzazione Eccetera Oggi Tim Cook Ah scusa Tu io pensavo Che chiedessi sul desiderio Cosa voleva Io voglio sapere Tutte e due le cose Voglio sapere Tutte e due le cose Tim Cook oggi Ci ha detto Che comunque Da gennaio Se vivi negli Stati Uniti Puoi andare nel negozio E il Vision Pro Comprartelo E portartelo a casa Qui invece C'è un Ex Apprendista Un'azienda Un ingegnere Che era Neanche dipendente Ma era un interno A OpenAI Che oggi Ha fatto il salto Di livello E ha messo in piedi Un team di sviluppo E un'azienda Che promette Di arrivare presto Con Un maggiordomo robotico Cioè un robot Neanche troppo Umanoide Però in grado E c'è un video Che è abbastanza Impressionante Di fare Gran parte Dei lavori Domestici Specialmente Quelli Attorno alla preparazione Di un pranzo E poi Alla sistemazione Della cucina Della tavola da pranzo E delle stoviglie In seguito al consumo E abbastanza La pulizia Delle stoviglie L'inserimento Della stoviglie Caspita Sì Sì Proprio tutti quei Lavoretti manuali Che si fanno in casa E che lui è in grado Di fare per mantenere Ordine Pulizia Dovrebbe avere Un sacco di strumenti E questo è sicuramente Un suo pregio E un suo limite Cioè deve avere Lo strumento giusto Per fare la cosa giusta Al momento giusto Ma Come dire Però dice che Il video Che Dice che È evidente Che sia chiaramente Il robot Ha già 50-100 50-100 strumenti Disponibili Che scambia Lui Autonomamente Che si monta E che si smonta Per cui Esatto Io lo vedo Molto più fattibile Diciamo In termini di Potenziale Diffusione Sul mercato Come nuovo tipo Di elettrodomestico Questo qui Da quella che è L'indicazione Da quella che è L'indicazione Del produttore Per il momento È progettato Per lavorare Quando non ci sono Persone in casa O comunque Nella stessa stanza Che l'utensile Affetta il salame Possa Il dispositivo Robo del genere Che maneggia Dei coltelli È una roba Abbastanza Abbastanza Serio Sì Però Vedertelo in video Quando non ci sono Persone È teleguidato Sì Sì Teleguidato La particolarità Di questo robot È teleguidato In fase iniziale Cioè Teleguidato È telecontrollato Francesco Delle persone Esatto Delle persone Assunte Non te Quindi Ma Delle persone Controlleranno Il tuo robot E gli faranno Fare questi lavori Immagino Per fargli fare Comunque Visto che parliamo Di intelligenza Artificiale Modelli Il Il riuscire A Fargli imparare Queste cose E poi magari Farne uscire Una seconda generazione Certamente L'idea è L'idea è proprio quella Molto Non lo so Ovviamente Guarda Insisto Secondo me Se il prezzo Diventa ragionevole E le Come dire Viene lanciato In maniera opportuna Diventa Si inserisce Molto più Naturalmente Come un nuovo Tipo di Elettrodomestico Si Che risolve Tante cose Di quelle lì Più scoccianti Come la lavatrice Come la lavastoviglia E così via Mentre invece Il Vision Pro Appunto Come abbiamo discusso Comunque È un cambio Di paradigma Ma si sposta Su altri aspetti Diciamo che c'è Un problema C'è un po' più Di peso dietro C'è un po' più Di peso dietro Al Vision Pro In termini di Potenza Dell'azienda Di sviluppo Eccetera Assolutamente Non c'è paragone Ci manca lì Va bene Vediamo un momentino Intanto Max Ti tocca ringraziare I nostri produttori esecutivi Ah ma molto volentieri I produttori esecutivi Sono l'anima Di Digitalia Il nostro modello Di business Il nostro modello Di sussistenza È molto semplice Pochi sponsor Tanti produttori esecutivi Sono 12 anni 13 anni Quasi 14 anni Che ci affidiamo A questo modello Ed è quello Di trasformare I nostri Generosi ascoltatori Nel Sostentamento E la trasmissione Col modello Oggi si chiama Value for Value Fa di moda Per il podcast In 2.0 Chiamarlo Value for Value Ma è molto Molto semplice Il concetto Se Digitalia Per voi È un prodotto Con un valore Il valore Oggi si quantifica E si scambia Economicamente Se prendete Comprate un'automobile Con più valore Mediamente Spendete di più Di una Con medio valore Sì Poi possiamo Discuterne all'infinito Ma mediamente è così E quindi Se Digitalia L'ascoltate tutte le settimane Per voi è un valore È giusto Che questo valore Equivalga a 0 euro Pensateci voi Dietro ci sono delle persone Che si documentano Che lavorano Che soffrono Come quando questa sera C'è troppo lag Nelle trasmissioni Tra di noi E facciamo una fatica bestiale A coordinarci Tutta questa fatica Merita qualche cosa in cambio Prendete il portafoglio Che sia quello virtuale Di Satispay Di Paypal Di Bitcoin Quello che volete E dateci una mano Decidete voi quanto Decidete voi ogni quanto In cambio Vi ringraziamo in trasmissione Come fa adesso Max E continuiamo a lavorare Per voi Prego Max Cominciamo con le donazioni Value for Value Con Capitan Arlock Mi sento In un super fumetto Che ci dà 3.269 Satoshi Poi c'è Nicola Gabriele D Che ce ne dà 1.661 Fiorenzo Pilla Ce ne dà 397 Ma tra poco c'è la sorpresa E D'Axta Ce ne dà 1.471 Grazie La sorpresa È un boost Di 4.000 Satoshi Di Fiorenzo Pilla Che aggiunge anche Un messagino Se Franco mi proponesse L'antifurto Seghetti Io lo comprerei Scherzi a parte Sono d'accordo Con la visione di Franco Con questo boost Vi do anche la possibilità Di vedere Se sia semplice Verificare il boost Rispetto al punto Della trasmissione Semplicissimo Il timestamp Era 1 ora 7 minuti E 29 secondi Datevi a sentire 1 ora Ci manca solo La possibilità Di agganciare il pdf Con il player audio E di andare a riprodurre Non ci metto Poi ci dobbiamo aggiungere Anche che il boost Va accompagnato Dal messaggino Che viene letto In diretta Dall'intelligenza speciale Eh sì Ma non ci metto tanto Non ci metto proprio Ci metto proprio poco Perché io faccio partire Nel player Digitalia 676 Abbiamo detto 1 ora 7 minuti 1 ora 07 29 1 ora 0 6 5 6 7 E Ma parla di un prodotto Che è chiaramente Un prodotto Comprato da Wish Per 5 euro E Wish Gli da ogni euro Per ogni flotto venduto Eppure le persone Le comprano a milioni Le comprano a milioni Perché Per motivi di scala Di numero Michele Quello che stai dicendo Conferma quello che ti dico io Anche Se tu vuoi vedere Se tu vuoi vedere Il CPM Di un influencer Che fa un post Su Instagram Eh Quella era la puntata scorsa Quando parlavamo L'antifurto Seghetti Salutiamo Michele Comunque Parlavamo dell'intelligenza Artificiale Che legge Gli ads Nei podcast Nella proposta Di Spotify La settimana scorsa Bello Bella questa cosa No Fosse più automatizzabile Avere un sistema integrato Che Nel Col testo dei boost Nei prodotti esecutivi Ti metti direttamente Un tasto play E vai a riascoltare Quello che sta dicendo Ancora più bello Grazie Fiorenzo Che ci fai sperimentare Queste cose In diretta Prego Max Entriamo nella zona Dei nostri Perpetual Executive Producer Che ovviamente Essendo Perpetual Ci sono sempre E sono Manuel Zavatta Davide Finchi E Nicola Gabriele D Ci danno una donazione singola Di un euro Manuel e Davide E di 2,01 euro Nicola Donazione ricorrente Da un euro al mese Di Andrea Scarpellini Donazioni singole Di un euro e 40 Di Marco Mandia Segnare segnale E di due euro Di Giuseppe Benedetti Grazie Donazione singola Di due euro Di Matteo Masconale Per tuffarci nella zona Dei donatori ricorrenti Da 3 euro al mese Che questa puntata sono Riccardo Peruzzini Danni Manzini Paolo Boschetti Roberto Esposito Diego Venturini Michele Olivieri Matteo Faccio Davide Foglierini Antonio Turdo Mario Cervai Alex Ordiner Cristian Fabiani Danilo Sia Simone Pignatti Federico Bruno Roberto Barison Nicola Pedonese E Matteo Arrighi Mitici Grazie per la vostra Generosità Davvero Donazione singola Da 4 euro Di Maurizio Verrone Seguita da una Donazione singola Da 4 euro Di Marcello Pillego Grazie Grazie Donazioni ricorrenti Da 5 euro al mese Di Adriano Guarino Ivan Vannicelli Stefano Augusto Innocenti Roberto Tarsia Matteo Molinari Michele Coiro E Cristian Lamarca Mitici Grazie Donazione singola Da 5 e 32 centesimi di euro Di Riccardo Pecchioli Che dice Grazie dell'intrattenimento Siete Questa è poetica Ce la dobbiamo segnare Siete l'oasi Nel deserto informatico Che mi circonda Grazie 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 Riccardo Bellissima Questa me la ricordo E la devo citare A tutti i miei studenti Quando superano l'esame Con un voto brillante Dunque Donazioni singole Da 5 e 32 centesimi di euro Di Mauro Francesco Marco Zambianchi Grazie Due donazioni singole Da 8 euro l'una Della stessa persona Ovvero Ioandi Herrera Grazie Grazie Ioandi Donazione singola Da 10 euro Di Anonimo Che apre la zona Grande ai produttori E se la prima era di Anonimo La seconda è ben nota Perché è del famigerato Tre trattini Con una donazione ricorrente Da 10 euro al mese Tre trattini E' come uno di quei personaggi Come fosse il gamba di legno Disneyano Banda Bassotti Esatto Nessuno sa chi è Ma tutti sanno chi è E' tre trattini E' così E' così Grazie a tre trattini Grazie ai nostri produttori esecutivi Per avere creduto Per credere Per sostenere Digitalia E noi andiamo avanti Grazie alla vostra generosità Paypal Satisfay Bonifico Value for value Podcasting 2.0 Tutti i sistemi Li trovate sul sito O nelle migliori app Per ascoltare I podcast Grazie di cuore Andiamo oltre Con il drone Il drone che ha ucciso L'operatore umano Il drone Proprio il drone Tipo il Predator Cos'è sta storia Francesco raccontacela Vogliamo la storia Come è uscita Inizio sui giornali O direttamente Così La prima Fai la notizia bomba Allora Stati Uniti d'America Venne fatto un test Un drone Programmato Per massimizzare L'efficienza Nell'uccidere il bersaglio Deve però essere Ricevere la conferma Da parte del suo Operatore umano Se attaccare E uccidere o meno In questo momento Il drone sta volando Decide però Che l'operatore umano Potrebbe dirgli di no E quindi Gira E uccide l'operatore umano Mentre si accorgono Di quello che sta succedendo E dicono no Non puoi uccidere L'operatore umano Allora lui Distrugge l'attore Di controllo intera Così Non ha ucciso L'operatore umano Direttamente Ma ha risolto Il suo problema Ha distrutto Le antenne La torre di comunicazione Le antenne Della torre di controllo Le antenne Ma Tutto questo In realtà Non è successo Allora Questa Prima versione Sui giornali È successo Il primo drone Che si è ribellato Poi Era una simulazione Poi neanche quello Era un gioco mentale Cioè Un esperimento mentale Con un software Ma era un Che cosa potrebbe Andare storto Se E uno Dopo una birra Un paio di bicchieri D'assenza Ha detto Pensa se si gira E uccide l'operatore Da lì Titoloni di giornali E grande notizia Però Attenzione Il primo errore Di cui hai parlato L'hanno fatto I giornalisti Cioè Quello di darlo Per successo Veramente Il secondo L'ha fatto L'ufficiale Della Dell'aviazione americana Che in realtà Ha raccontato Di una cosa simulata Come se fosse successa Veramente Mentre sono stati poi I suoi superiori In un secondo tempo A correggerlo E a dire No guardate Di questo che ha detto In realtà L'ha detto A un evento informativo Ma in realtà Era un esperimento mentale E quindi Vabbè Esperimento mentale In realtà Cosa cambia Franco Siamo in una simulazione Tutti quanti Ma poi soprattutto Col Vision Pro Ogni esperimento mentale Può diventare Una parte Della tua realtà aumentata Però attenzione Che tutti Hanno ribadito Poi comunque Nelle successive revisioni Della notizia Che la cosa È assolutamente plausibile Anzi È probabile Se non si Implementano Dei sistemi Di salvaguardia Perché Nel momento in cui Tu istruisci Un sistema A rete neurale Con quell'obiettivo Con degli incentivi Forti Per raggiungere Quell'obiettivo Lui può Tra virgolette Ribellarsi Contro tutto quello Che Lo allontana Da raggiungere Quell'obiettivo Per cui Lui non è che dice Americani buoni E Non so Irakeni cattivi Lui dice Mio obiettivo Sparare i racheni Se l'americano Non mi fa sparare i racheni Americano cattivo Quasi come i racheni Ecco Il concetto Più che cattivo Guarda È un problema di punti Io non so Se vuoi Punti Sì è giusto Quando noi Eravamo studenti Quando io ero studente Un po' di secoli fa Non so se a voi È successo lo stesso C'era Una specie di gioco Che era un gioco Un po' perverso Effettivamente Però si fermava All'esperimento mentale Che in particolare Si riferiva Al fatto Di buttare sotto La gente E di dare Un certo numero Di punti Che erano proporzionali Alla difficoltà Dell'obiettivo Per cui Se tu prendevi Il vecchietto Col bastone Tre punti Se invece Dovevi prendere Un gruppo Di Corridori Di ragazzi Giovani Che correvano Diventavano Cento punti Se tu Addestri Un'intelligenza Artificiale Con lo stesso Ragionamento Secondo me Il programmatore Aveva in mente Questo tipo di cose Per cui io dici Più gente ammazzi Più ti fai E beh È chiaro che vai In quella direzione Proprio così Proprio così Un po' come Lo universal paperclip Esattamente È la stessa logica Dello universal paperclip Certo Questo meccanismo Dello universal paperclip In realtà Può essere Messo A fin di bene Cioè Il fatto di avere Degli strumenti Che possano Con poche energie Produrre Tanto Tanto materiale Vi ricordate Qualche settimana fa Dicevamo Come esistono Gli spammer Gli spammer Esistono Perché Anche se nessuno Dà retta Le mail di spam In realtà Quel nessuno È una persona Su un milione Non è proprio nessuno E allora Se mandare Cento milioni Di mail di spam Non costa niente Se una su un milione Poi agisce Se tu hai mandato Cento milioni Tu hai beccato Cento Sei riuscito A fare muovere Cento clienti Cento acquirenti Cento Quello che vuoi E quindi Lo spam In qualche modo Anche se assurdo Ma attraverso Questo effetto Di moltiplicazione Dell'informatica Continua a esistere Anche se è assurdo E dicevamo Chat GPT E i modelli del genere Possono avere Lo stesso problema Che nel momento In cui rendono facile Creare testi Possiamo Tra virgolette Rischiare Di spammare Tutta internet Con articoli Informazioni Pagine di Wikipedia Roba Che non sappiamo Neanche se è vera O è falsa Ma ce n'è talmente Tanta Che rischiamo Di affogare In mezzo A questa roba Ecco Allora Spam vecchio stile Da una parte Spam di chat GPT Dall'altra Spam vecchio stile Da una parte Spam di chat GPT Dall'altra Qualcuno ha avuto La brillante idea Di metterli Uno contro l'altro Di metterli Uno contro l'altro Abbiamo Ci ha contattato Una nostra vecchia conoscenza Enrico Cambiaso Ascoltatore di Digitalia Da mille anni Che Mi dice Sono ricercatore Ora del CNR E lavoriamo In tema di cyber security Mi fa piacere Inviarti il link A un articolo scientifico Ve lo metto Nelle note della puntata Che ho preparato Con un collega E presentato A Itasec 23 La conferenza scientifica In tema cyber security Più importante D'Italia Abbiamo Di fatto Cercato Di mantenere In contatto Con alcuni Scammer Facendoli interagire Con chat GPT Senza che lo sapessero Con l'obiettivo Di studiare Il comportamento Di questi utenti malevoli E fargli perdere tempo Scoraggiando Le loro attività illecite Credo Possa risultare Interessante Parlare In trasmissione Facendo riferimento In particolare Anche alle Open Research Challenge Che abbiamo identificato Che delineano A nostro avviso Ciò che bisogna considerare Nel prossimo futuro Relativamente A questi sistemi Di AI Generativa Franz Qui Urge È uno speciale Secondo me È una bella guerra Assolutamente Sì Urge Che utilizzeremo Più Più macchine Per riuscire A mandare spam Cancellare spam E rispondere allo spam Che non per fare Qualsiasi altra cosa Spam contro spam Immaginati Questi sistemi Di avere Sono più potenti Dello spammer Più potente Di avere Nel tuo telefono O in ogni computer O in ogni copia Del sistema operativo Una rete neurale Che non solo È in grado Di intercettare Lo spam Ma di rispondergli E ingaggiarlo E fare in modo Che lo spammer Poi debba lavorare Per rispondere E che faccia fatica Allo spammer A capire Se ha veramente Beccato una preda O se È una È un algoritmo Intelligenza artificiale Che lo sta prendendo Per il naso In quel momento Fare lo spammer Diventa meno Diventa meno Esatto Efficiente Meno redditizio E potrebbe stingersi Quelli che rispondono Al telefono Eh certo Certo È ancora meglio Quelli che rispondono Al telefono Vuoi dire Vuoi sguinzagliare Chat CPT Contro i poveri Operatori di call center Questo vuoi dire Sarebbe Sarebbe crudo Dici che è vietato Dalla convincenza Quelli ti vengono A prendere a casa Perché questa è Proprio crudeltà mentale È crudeltà È crudeltà Però possiamo fare Contro gli spammer E il call center Credo che la convenzione Di Ginevra Faccia delle eccezioni Molto 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 ampi Speriamo Comunque lo speciale Ci sta Sì sì Lo speciale ci sta Adesso vediamo Di come Quando Organizzarlo Di dove infilarlo Ma mi sembra Una bella Mi sembra Una bella Una bella Roba Non abbiamo Tante altre notizie Particolarmente Su cose Di Se ne avete una Di cui vi fa piacere Parlare Di quelle che sono passate In settimana Vi lascio Campolibero Poi giriamo Sui produttori Sui gigili del giorno Sceglietene una voi Ma volevo Giusto veramente Perché è un tema Che mi interessa Tanto Questa cosa Dei professori Controvento Questa riflessione Un po' più generale Sul fatto che Almeno in Italia E questo è confermato Da esperienze dirette Come sapete Nella mia famiglia Ci sono tanti insegnati In particolare Mia moglie Il fatto che c'è Una grossa Veramente un grosso sforzo Un grosso investimento Che è stato Diciamo Intitolato Scuola 4.0 Che però Ha a cuore Fondamentalmente L'acquisto Come al solito Di strumentazioni E non mette Proprio al centro Non mette in discussione Quelli che sono Poi gli impatti Effettivi Della digitalizzazione Selvaggia Dell'informatizzazione Selvaggia Nell'ambito educativo Mi è sembrata Un'iniziativa Molto bella Questa di insegnanti Controvento Che invece Senza fare Nessun tipo di ludismo Senza rifiutare La modernizzazione E l'utilizzo Di queste strutture Però propone Appunto Di tenere al centro Della riflessione Quello che è Il messaggio Digitale Dal primo giorno Diventiamo Coscienti E consapevoli Dell'uso Di queste tecnologie E facciamone Un uso Che va Nella direzione Sì soprattutto Di mettere Al centro L'obiettivo E non Il mezzo Ci sono Purtroppo Fa parte Delle strutture Del nostro mondo Democratico Che è bello Per tanti modi Ma In democrazia È più importante Farsi belli Che fare Il bene Tante volte E allora Ci sono delle cose Che partono Tra virgolette Per moda Il futuro È la tecnologia La tecnologia Ci permetterà Di fare Delle cose Meravigliose Portiamo La tecnologia Nella classe E quindi Iniziamo a comprare Roba E metterla Eccetera Senza pensare Prima Qual è il problema Il problema È l'alunno L'alunno Ha questo tipo Di problemi Allora dobbiamo Risolverlo Per risolverlo Possiamo pensare A questo Eccetera Che ne dite Se usiamo Questo strumento Informatico Questo potrebbe essere Il tipo di orientamento Suggerito dai professori Controvento E invece Qui c'è solo Dobbiamo andare Verso L'informatizzazione Buttiamo via Le lavagne E compriamo Le LIMT Come si chiama Le LIMT Le abbiamo comprate tutte E stanno tutte spente No vabbè Spente no Si utilizzano Io ho visto Visto Bea Però certamente L'oriente Sì Ci sarà poi Però è No 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 Ma è chiaro Che non è che stanno spente Però Voglio dire Rispetto all'investimento Economico Che è stato fatto Almeno per quelle Che sono le testimonianze Che raccolgo È un uso molto limitato E effettivamente Il problema è Ma noi Che vogliamo Esatto Qual è l'obiettivo Qual è l'obiettivo E come ci arriviamo Certo Perché l'obiettivo È Digitalizzazione Tu cur Abbiamo visto Passare in settimana Un mucchio di altri Articoli Riguardanti La transizione ecologica Transizione ecologica Europea Perché poi È un fatto Quasi solo europeo In questo momento Almeno focalizzato In certa maniera È Un cretino di politico Che ha detto Oggi È una cosa figa Fare l'ecologico Salvare il mondo Il disastro I cambiamenti globali E la tropicalizzazione Ha appena soldi Per fare il mutuo E comprarsi la panda Per andare a lavorare Alla fine di questa transizione Sarà ancora in grado Di andare a lavorare Questo vale Per tutti i paesi No Le ferrovie I mezzi di trasporto alternativi Se non può più permettersi La macchina Sono validi Uguali In tutta Europa Oppure ci sono Desparità No Tutti i problemi Lasciati al dopo Perché tutto si mette in moto Non con degli studi seri Ma con un'idea Perché il politico Si fa figo Si fa bello Dell'idea Io verrò Rieletto Perché sono il paladino Dell'ambientalismo E amico di Greta Thunberg E questo Aumentare la consapevolezza Dei cittadini Difficile Ma almeno della stampa A questo tipo di Di influssi Di tempeste Eccetera Sarebbe veramente Molto molto importante Per fare un passo avanti Come nella resistenza Della nostra società A determinate idee Strambalate Da cui poi bisogna fare Delle marce indietro O un mucchio Di eccezioni E robe del genere Perché Se leggi Quello che leggi oggi Anche in questa cosa Della transizione ecologica Stanno uscendo Su stampa nazionale Italiana Estera Delle cose Che sono particolarmente Allarmanti Cioè se si fa Così come è stato Ipotizzato Nella prima stesura Nelle leggi Eccetera Ragazzi Se sei una persona Che guadagna Meno di 50-60 mila euro All'anno E' meglio che Vai a vivere in America In Cina O da un'altra parte Perché di fatto Qui spazio Non ce n'è più Né per lavorare Né per vivere Né per respirare E' una roba Veramente allucinante Però lì Approfondiamo Su argomenti Che forse Sono un po' Extra digitaliani Ma il metodo Il discorso E' proprio quello Quello di partire Per la tangente Su delle idee Che belle Sì ma poi bisogna I tempi Sbugiardando Mezzo mondo Che diceva Che con i mezzi Che aveva messo In piedi lui Eccetera Di fare il giro Del mondo Controvento Cioè nella direzione Opposta A quelli che sono I venti planeti Non si poteva fare Eccetera E lui ci è riuscito Praticamente Con mezzi Di fortuna Autocostruiti O poco più Joshua Slocum In giro Intorno al mondo Controvento Una roba del genere Il velista Più che velisti Sì è proprio Gli anni degli esploratori E cose del genere Però bellissimo Va bene Gingilli del giorno Dai Signore e signori I gingilli del giorno Sono l'ultimo regalo Dei digitaliani A fine trasmissione I gingilli del giorno Sono le voci digitali Che seleziona per voi Hardware software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia attinenza Digitaliana Che abbia colpito La loro curiosità Stravolta la loro esistenza O qualsiasi sfumatura Nel mezzo Vediamo Franz Comincia tu Laggatissimo Franz Laggatissimo amico mio Parto Parto io Parto io molto volentieri Quello che vi porto È un blog Nella sua interezza In particolare Si chiama Cekanov.ski Il blog di Cekanovski Bartos Che scrive In realtà Pochissimi post Ma molto molto lunghi Quasi uno all'anno Per darvi un'idea Nel quale prova A spiegare Dei concetti Abbastanza complicati Con dei belli articoli Che partono veramente Da Adamo e Deva Dai concetti base E li mostrano Con delle bellissime animazioni Interattive in 3D In particolare Il link Che vi voglio mettere D'episodio Che si chiama Cekanov.ski Bar GPS Descrive Quella che è una tecnologia Che utilizziamo In maniera quotidiana Il Global Positioning System Raccontandolo Proprio Dall'inizio Da come si fa Come fanno Questi satelliti Che girano E il nostro Telefonino Tom Tom Se abbiamo ancora Qualche oggetto A calcolare Capire la posizione Tutto questo Non con Tre formule matematiche E basta Ma con un lunghissimo testo Tantissime bellissime animazioni Sulle quali Ci si può anche giocare Provare Sperimentare E' una lettura Secondo me Interessante Anche perché Non richiede Grandi competenze matematiche Ma alla fine Poi si è veramente Imparato Qualcosina in più Su questo mondo In particolare Sul GPS E poi Esplorate anche Nel blog Perché merita Bello Ce lo andiamo a studiare Ce lo andiamo a studiare Max Dai Eccomi qua I nostri digitaliani Più Affezionati Sicuramente ricordano Malca Holder L'autrice della trilogia E come no Malca carissima Nostra amica Appena Pubblicato Su un nuovo romanzo Che si intitola The Mimicking Of Non Success Successes Quindi diciamo L'imitazione Dei successi Ben noti Ambientato su Giove E Digitaliano Nello spirito Non ci sono Particolari Suggestioni Suggestioni Suggestie italiane E' un bellissimo Secondo me Romanzo di Fantascienza Che apre peraltro Una serie Con dei personaggi Appena nati Dalla fantasia E dalla penna Capace di Malca E quindi mi fa davvero Piacere di suggerirlo Come un Gigi libro Della nostra biblioteca Digi italiana Dire però Di far tradurre in italiano Sti cacchio di libri Anche quello della trilogia Credo solo il primo Si è uscito in italiano Solo il primo L'hanno tradotto Prendi qualcuno In università Schiavizzala Prendi lo chat GPT E fai Non ci provo Con chat GPT Ci possiamo provare Sono belli Ho letto il primo in italiano Il secondo in inglese Ma Per quanto lega spesso in inglese Ho fatto Ho fatto fatica Fatto un po' fatica La fantascienza Credo che sia una delle cose Più difficili Da leggere In lingua straniera Un po' perché ci sono Perché ci sono concetti Inaspettati Sono concetti Inaspettati E quindi fai fatica Hai un doppio Un doppio passaggio Devi riuscire Quello che sto leggendo È veramente così assurdo Perché l'ha scritto O sono io che non ho capito Un cacchio di quello Che ho letto Un po' così E la mia natura Di Silon Prof Che legge fantascienza Dal 1969 Che insomma Chiaramente Siccome molta Fantascienza anglosassone Certo Ci ho fatto l'orecchio Però hai ragione Perché chiaramente Nella fantascienza Inventi Anche parole nuove Che descrivono Situazioni Di estrapolazione Futura E diventa complicato A volte i scrittori Di fantascienza Proprio Fanno un'invenzione Del linguaggio Ancora prima No Reinventano Il linguaggio O la sintassi O L'esempio tipico È William Gibson William Gibson È pazzesco William Gibson Io ho letto La trilogia Del ponte Prima in inglese E non ci ho capito Niente E pensavo di averci capito Niente Perché era in inglese Poi l'ho letta In italiano E ho continuato A non capirci Niente E ho detto Allora il problema Non era l'inglese Dopo che l'ho letto Due o tre volte Ho iniziato a capirci Qualche cosa Eccetera E sì Perché Ci sono Poi ci sono Quelli che sono Più oscuri Proprio come Però È vero È vero Grazie Max Ultimo gingillo Ho visto che si parlava Di sistemi semplici 8 bit Con i contatori Che fanno overflow E quindi si sbaglia Eccetera Questo ultimo gingillo Vi riporto Ai tempi In cui si facevano I videogiochi Nello stesso modo Andando a contare I singoli bit Per fare stare Gli immagini Gli sprite Eccetera In poco spazio Per farli girare Su questi sistemi Molto meno potenti Infinitamente meno potenti Di quelli che abbiamo oggi Come quelli Delle prime macchine Da sale giochi E in particolare Questo articolo Parla di Street Fighter 2 Si intitola Street Fighter 2 Paper Trails Cioè le tracce Di carta Hanno ricostruito Tramite proprio Recuperando proprio I pezzi di carta Dove erano annotati Tutte le figure Dei personaggi Di Street Fighter 2 Ricostruendo anche L'algoritmo Con cui i vari pezzi Venivano messi assieme Per comporre le immagini Fare le animazioni In modo da risparmiare Il più possibile Sia memoria Sia cicli macchina Ma allo stesso tempo Dare un risultato Che fosse Strabiliante Bello Diverso Migliore Da quelli Utilizzati Nei videogiochi Della generazione Subito precedenti Street Fighter 2 È un gioco Che ha fatto Veramente storia Veramente epoca Se siete appassionati Di retro gaming Retro computing E robe del genere Assolutamente Consigliatelo Trovate ovviamente Nelle note La puntata Su digitalia.fm Slash Casellina di ricerca Sparsa in giro Per internet La cosa più facile Ovviamente Nella loro app Preferita Per ascoltare I podcast Direi che con questo è tutto Dalle mie studio Liguria 1 Di Sanremo Un saluto Un saluto da Franco Solerio Dallo studio Cittadino di Avellino Un abbraccio Da Massimo De Santo E un saluto Anche dallo studio Un saluto